Ciao, in questo tutorial vedremo come poter modificare le iniziative mensili già previste all'interno del sistema. Va subito detto che per poter effettuare questo tipo di modifiche occorre entrare all'interno del sistema, all'interno di GoWeb, con un utente amministrativo. La voce per poter andare a modificare le iniziative si trova all'interno di Configurazioni e una volta entrati in Configurazione troverete Varie. A questo punto, come potete vedere, all'interno della voce Varie troverete la voce Gestione Bot. Una volta selezionata questa voce avrete l'opportunità di visualizzare la schermata che vi consente di modificare le iniziative già presenti all'interno del sistema. Le trovate qui a sinistra e linkate. Nel caso specifico, per esempio, potremmo voler modificare la Promo 1 Natale, quella che prevede la consegna del buono a dicembre. Come potete vedere, di fianco c'è un tastino con una matitina premuto il quale si entra all'interno della configurazione dell'iniziativa. Come potete vedere, sono due le parti in questione, quindi la parte dell'SMS di ingaggio e la parte relativa all'ingaggio di WhatsApp. Ipotizziamo di voler modificare uno o tutti e due i messaggi. A questo punto, nella parte sottostante, come vedete, c'è scritto Agente Personalizzato. Ed è proprio qui che noi andremo a fare le modifiche necessarie per personalizzare la nostra iniziativa. Premendo il tastino blu, con i due quadratini bianchi, si avrà la possibilità di copiare il testo dal messaggio standard. Ve lo faccio vedere. Quindi premo il tasto blu, viene evidenziata la parte che viene copiata e, come vedete, viene riportato il testo nell'area sottostante. Quindi a questo punto noi possiamo modificare l'SMS di ingaggio. È importante però dare subito un'indicazione fondamentale. Come potete vedere, questi tag che vengono riportati qua attraverso dei simboli specifici, che sono nel caso specifico il simbolo di dollaro o, in questo caso, col simbolo delle graffe, ecco, questi qua sono sempre tag che vanno lasciati così come li trovate, perché sono elementi di sistema, quindi devono rimanere così come sono. Sul resto del testo avete tranquillamente l'opportunità di effettuare le modifiche che volete. Nel caso specifico, per esempio, Ciao, a dicembre vogliamo farti un regalo importante, noi potremo modificare importanti in un regalo stupendo. Scusate, mi parto dalla maiuscola. Stupendo. Ok. A questo punto la modifica del testo è stata effettuata. Se volessimo fare la stessa cosa sul primo messaggio di ingaggio di WhatsApp, sempre premendo, a questo punto, il tasto blu del secondo riquadrino, selezionando qui, vedete che anche in questo caso viene riportato il testo e come sempre le osservazioni sono le seguenti, attenzione ai testi all'interno delle graffe, attenzione ai testi all'interno degli asterischi e ancora sotto delle graffe. Tutto il resto è modificabile. Quindi, prenotando un appuntamento in salone a dicembre, riceverai una busta chiusa che potremo aprire insieme a gennaio contenente un super premio. Anche in questo caso potremo lasciare un premio bellissimo. A questo punto ho effettuato la modifica del testo. Posso selezionare il tasto procedi e selezionando il tasto procedi il sistema rileverà la modifica tant'è che verrà mostrata all'interno delle promo evidenziate in verde proprio a evidenziare il fatto che si tratta di una promo, quindi di un'iniziativa modificata. La stessa cosa può essere effettuata su ciascuna delle iniziative riportate all'interno del sistema. Ciao!